Musica Presentati lunedì 13 dicembre i dati relativi al settore turistico della città della Fortuna. Circa 10.000 arrivi in più e un aumento del 30% di presenza di turisti nel territorio. Queste alcune cifre dichiarate per il comparto turistico nel 2010. Il dato che emerge è che nella nostra città arrivano più turisti rispetto all'anno 2009. Con un incremento di 10.000 turisti nella città e un incremento soprattutto degli stranieri presenti nelle strutture alberghiere che è del 30%. Questo è anche un premio alla promozione che il Comune di Fano, l'Ufficio Turismo, fa nelle fiere internazionali, le più importanti del nord Europa e anche nelle principali piazze italiane. Un settore su cui dobbiamo ancora puntare e su cui dobbiamo investire e credere. L'accoglienza va fatta assolutamente tramite le iniziative che l'amministrazione comunale propone durante l'arco dei mesi principalmente primaverili ed estivi, anche invernali come può essere il carnevale. Quindi delle belle iniziative e dei belli eventi radicati sul territorio, ma l'accoglienza vuol dire anche la qualità delle strutture ricettive. Quindi qui ringrazio anche gli operatori che propongono sempre la qualità al turista e che con l'amministrazione devono aprire un tavolo per rivedere anche quelle che possono essere le strutture ricettive che hanno bisogno di ulteriori investimenti. E l'accoglienza anche dal punto di vista del decoro della città che è sempre molto difficile mantenere alto, ma che sicuramente questa amministrazione in questi anni anche su questo ha voluto puntare. Le fiere principali sono quelle che riguardano il bacino naturale della nostra clientela, quindi per quello che riguarda l'Italia e il nord Italia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna ovviamente. E per quello che riguarda invece i paesi esteri, a seguito della regione Marche, partecipiamo a fiere che sono sempre del nostro bacino, quindi in Germania, Monaco, Stoccarda, Berlino e quant'altro, oppure i paesi dell'est, Praga, Mosca. In via sperimentale la stiamo portando avanti insieme alla regione proprio per cercare di capire come catturare questi flussi turistici, anche per gli investimenti che la stessa regione sta facendo, su tutto ciò che riguarda il comparto del traffico aereo che sta cercando di convogliare sull'aeroporto di Falconara. Abbiamo già partecipato a fiere proprio per la programmazione 2011, alla fiera di Londra, a fiere qui in Italia, per esempio a Montecatini, quella del turismo sportivo. Abbiamo partecipato al Bike Tourism Online di Firenze, un forum molto significativo su tutte le nuove tecnologie da applicare nel campo turistico. Abbiamo partecipato alla fiera di Milano, quindi attività promozionale mirata, stretta nel periodo minimo di permanenza degli impiegati del comune, in particolare dell'ufficio turismo. Attività che in qualche maniera raccoglie il riscontro oggettivo di buoni risultati di arrivi e presenze che abbiamo avuto quest'anno. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS